E' un bellissimo spettacolo! Di cosa parli secondo te? Raccogli subito quella sciarpa, non trattarla male. Trattarla male? Perché? Con sentire se l'ha tratto male? Ha un'anima? Ricordati che è l'ultima cosa che la nonna ha fatto per te. Contenza di pietra! Ma che belle voci! Finalmente! ateral di pietra Radusa 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 CompaŻanca la coi! E io sono un suo amico In salute, in malattia, in ricchezza e in povertà In che volte mi sembra erato Noi siamo una famiglia Noi siamo una famiglia